Tra gli ultimi provvedimenti approvati dall'Aggiunta regionale c'è quello per il sistema della depurazione. Ammontano a circa 260 milioni di euro gli investimenti previsti dalla regione per affrontare le criticità del comparto depurativo e fognario. E i depuratori rappresentano la grande incognita di molti comuni e diversi sono gli impianti che vivono varie vicissitudini. Balzata alle croneche nazionali la storia di San Sago, località del comune di Tortora, Alto Tirreno Cosentino, le acque di depurazione vengono convogliate nel fiume Noce che segna lo spartiacqua tra la regione Calabria e la Basilicata che raggiungono il mare in una zona altamente turistica. Negli ultimi anni rimasto chiuso a seguito di un provvedimento giudiziario e dopo una partita giocata nei tribunali è ora in preavvio di riapertura, riaccendendo così i riflettori. San Sago può essere definita l'ennesima storia infinita che in qualche modo marchiano e segnano i nostri territori. Ci fu una notizia così che arrivò come un fulmine a cielo sereno da parte dei quotidiani nazionali, ossia che qui a Tortora erano in arriva addirittura scorie di dubbia provenienza e questo logicamente scatenò le remore dell'allora sindaco Lamboglia, ancora l'attuale sindaco di Tortora, che decise per la chiusura. Le associazioni di sicuro hanno poi fatto la voce grossa cercando principalmente di difendere l'intero fiume Noce che ricade poi in area sic, quindi in zone che sono di interesse comunitario, in zone che sono protette dal punto di vista ambientale per la loro particolare flora e fauna. Comuni, associazioni e altri soggetti che intervengono durante gli anni in questa situazione, ma soprattutto giocano in prima linea due regioni. Da una parte la regione Basilicata che manda missive alla regione Calabria, la regione Calabria che è stata latente per diverso tempo. Dal 2013 che il comune di Tortora sta chiedendo alla regione Calabria di intervenire e lo ha fatto in ogni maniera, lo ha fatto anche tramite gli organi sovra regionali. Le risposte ci sono state in alcuni casi, però sembra che poi al Dipartimento Ambiente della Calabria la situazione non vada avanti. Questo è un problema che è stato sottolineato più volte dal sindaco di Tortora, il silenzio della regione Calabria.